Ok, salve a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo, insieme a tutti ragazzi siamo su Roblox Terramon, ragazzi, direi di andare Allora Facciamolo attaccare Ok Ok Altri serpentoni Attaccate il mio esercito di serpenti Troppo semplice Troppo semplice Oh Molto interessante Mettiamo sempre gli snake qua Mettiamo qui Ok Sconfitto I pipiri Yes Ok Ma si dai un'altra Oh Interessante Peccato che Io ho giù un modo per distruggerti No Mettiamoci queste Ci mettiamo altri sine Qui Distrutto Bene E va bene ragazzi C'è un prossimo episodio di Roblox Terramon Grazie a tutti Grazie a tutti